Cari youtuber, buongiorno e benvenuti nel video del canale Oggi vediamo un nuovo mazzo di Digimon Che è uscito con BT04, ieri l'ho testato Ho fatto il mio primo torneo di Digimon dal vivo Lasciando perdere la community che fa cagare il cazzo Poi su questo ci arriveremo più avanti Prima di tutto vi faccio vedere il mazzo Ma ancora prima vi faccio vedere la nuova kick Il nuovo tappetino che è arrivato Che è molto bello Molto molto bello Che è molto bello per Digimon Proprio per Digimon Un nuovo tappetino molto bello Con tutte le Le zone per le carte Tutte le zone per le carte Io ho fatto il torneo Però non parliamo del torneo perché ne parleremo più avanti Oggi vediamo un nuovo mazzo nero che è uscito con BT04 Quindi ho rimodificato Ho fatto un nuovo mazzo diciamo Mentre quello nero che avevo prima L'ho ottenuto con due modifiche Che però devono essere modificate di nuovo perché mi sono accorto che non vanno bene quelle modifiche lì Per quanto riguarda invece il nuovo mazzo quello nero è molto forte Più che molto forte è molto bello da giocare perché si può giocare sia come Rookie Rash che come gioco per diciamo un mazzo per allungare la partita e picchiare forte Però è tanta roba veramente Il mazzo in questione In questione è il nero di GB Grade GB Grade Che gioca Partiamo subito con le uova Un Capurimon Si vede? Si Un Capurimon Che quando questo Digimon non blocca e prende più 1000 Nel mio turno E 4 Missimon Che in teoria si giocherebbero con 4 Missimon Sontanto le uova Io voglio giocare con 5 Quindi ci ho messo Capurimon Quando questo Digimon ha GB Grade nel suo tipo Prende più 1000 Quindi è buono perché se io voglio giocare magari un Blocker Che ha GB Grade sotto E c'ho anche un Tai magari che mi dà già più 1000 Insomma prenderebbe più 2000 E non sarebbe niente male Arriviamo Un attimo in pausa Metto Ok siamo ripartiti Partiamo Ritorniamo Stavo sistemando le carte Allora abbiamo Prima di tutto i Tamer Un Tai Nero Che è quello che giocavo nel Che giocavo nel nero che giocavo prima Questo qui Vabbè è il castico Tai Nero Che si gioca a Security Senza pagarlo Lo metti in mano Non si gioca Gioca in 4 costo Costo 4 Vabbè se hai meno di 2 vai a 3 E nel turno avversario Digimon Tu hai prendono più 1000 Tutti i Digimon Ne riprendono più 1000 Si nel turno avversario Mentre il Tamer in più che si gioca Che si gioca era Lizzi Che io non sapevo se giocare in 2x o in 1x Cioè se giocare in 1x Basta in 1x Anche questo qui si gioca dalla mano A 4 costi Si può mettere dalla mano Dalla Security A inizio del turno Vabbè anche qua se ho 2 vado a 3 E cosa faccio? Quando viene giocato Rivelo le prime 3 carte Se sono tutte nere In questo caso si Saranno sempre tutte nere Forse solo col Chaosmon Non saranno neri A eccezione del Chaosmon Quindi ho pochissima possibilità Di non avere neri Guadagno un Memory E metto quelle 3 carte In cima al mazzo Nell'ordine che preferisco Quindi mi mischio anche il mazzo Di come voglio io In poche parole Arriviamo ai Rooki I Rooki sono principalmente 12 Sono tutti lo stesso Digimon Ma con versioni diverse Giochiamo Questi 4 Commandramon Che si giocano A 2 Giocano a 2 Ed è un 3000 Di DPI Si giocano a 2 Quindi anche abbastanza veloce Magari non dai nemmeno tanto Al tuo avversario E giocare tanti di questi Per cui è un Rooki Rush Perché giocare tanti di questi Potrebbero portarti a fare Tanti attacchi Contemporariamente Sicuramente li perderai Con gli attacchi Però li giochi Talmente velocemente Con talmente poco costo Che è molto semplice A giocarli Quindi anche se Te ne fanno fuori Uno o due O anche tre Comunque sai Che li puoi giocare Mentre quelli che costano Un po' di più Sono questi Commandramon Che si giocano A 4 Ma hanno 5000 DP Quindi hanno Un attacco più forte Magari possono anche resistere Sono DB grade Come anche l'altro Tutti i Commandramon Non sbaglio Sono DB grade Questo è uscito Dallo starter Questo è uscito Dallo starter Quindi per prenderlo Ho dovuto prendermi Lo starter Che alla fine Ho dovuto prenderne due Qua c'ho pure La scatola Che sto usando Perché non ho Un portamazzi in più Quindi sto usando Perso la scatola Mentre Un 4x In questo caso 3 perché Uno è una proxy Perché mi manca Mi deve arrivare Questo Commandramon Commandramon Che ha un DP Quindi è abbastanza debole Si gioca a costo 3 Ma ha un effetto Che quando muore Praticamente Rivelo le prime tre carte Del mazzo Se sono Un Commandramon Lo gioco senza pagare il costo Il resto lo metto sotto Quindi cerca altri Commandramon Quindi mi vuole un Commandramon Posso trovare un altro Commandramon Questa è Una cosa Molto buona Per questo Dico È il mazzo Rookie Rash Una in 1x La volevo togliere Sinceramente Però per adesso La sto tenendo Perché comunque Si è un ottimo ponte Il Numemon In 4x Numemon in 4x Ehi scusa In 1x Costo di evoluzione 1 Costo dalla mano 3 3dpi Un ponte Che potrebbe servire Per arrivare A livello 5 Diciamo Che La pecca Di questo mazzo Non avere tanti Livelli 4 Avendo pochi Livelli 4 Però viene compensata Da fatto che Hai molti Rookie Rash Da poter giocare Altro Digimon A livello 4x Che costa un po' Di più Dalla mano Ma Ha 1x Da digivoluzione Ed è un 5000 Ed è un blocker Da Tyrannomon Che mi è costato Un sacco di soldi Perché L'ho dovuto Prendere Dallo starter In quanto Non ce n'era Non ce n'era Non Non li trovi Nei box Ma sono Negli starter Però è molto buono È un difensore Quindi è un blocker Che però può attaccare Perdendo 2 memory Poi Altro Digimon Di livello 4x Blocker Uguale Particamente A duck Tyrannomon Che costa un po' Di più Come Come digivoluzione Infatti A digivoluzione Costo 2x Dalla mano 5x Quindi Non è meno È il Sildramon Questo Sildramon Mi ha fatto Dannare Per trovarlo Mi ha fatto Dannare Per fortuna Che c'era Taha Che mi ha dato Tutte le carte Che mi servivano In 6 6.000 ADP È molto buono Perché Più di tutto È un blocker Ti può salvare il culo In certe situazioni E Si gioca anche questo qua Abbastanza semplicemente Nel senso Che comunque Tanti command Tu di solito I command O li utilizzi Come rookie Resh Ma se la puoi impostare Come partita lunga In questo caso Funzionano I Come si chiama I Sildramon E d'Actirannomo Funzionano tanto Arriviamo In livelli 5 Che sono Principalmente Sono pochi Anche in questo caso A tanti livelli 6 Questo Questo mazzo Questo è vero Questo forse È la pecca Abbiamo Due tank Dramon Due tank Dramon Che si giocano A livello 7 E si giocano A scusa A costo 7 Costo dalla mano 7 Digivoluzione 3 Questo qua dice Quando Un altro Digimon Con DB grade Viene ucciso Quando uno e due Digimon Con DB grade Viene ucciso Riveli i primi due carte E cerchi un Commando Tra queste due Se le trovi La giochi senza pagare costo Quindi un altro Un altro Digimon Che praticamente Si basa sul fatto Di andare a cercare Rookie Rash Infatti Rookie Rash Funziona Però io raramente Lo gioco con Rookie Rash Perché Dipende Contro che mazzo Lo giochi Poi abbiamo In 3x I Mega Dramon Che Si giocano A 7 Dalla mano 3 Dal 3 Dal Digivoluzione Con Digivoluzione 7000 DP Ed è un blocker Quando viene Digivoluto Diventa un blocker Altrimenti Non è un blocker In poche parole Perché ricordiamo L'effetto Che sta sotto la carta Vuol dire che deve essere Digivoluto Per ereditare Quell'effetto Mentre se è sopra La carta Quindi sull'immagine L'effetto viene perso Una volta Digivoluto Ed avviene soltanto Giocandolo Praticamente Senza Digivolversi Diciamo sopra Poi abbiamo 4 Etemon Che è tornato L'Ethemon Che ritorna La scimmia pazza Che era DBT03 Ed è tornata Si gioca A costo 7 Anche qua A costo 7 Livello 3 No scusa A costo 3 Da digivoluzione 6000 dp E' un blocker Che dice Quando muore Riveli 5 carte Dalla cima Del tuo manzo Cerchi un Etemon O un metal Etemon E lo metti in campo Senza pagarle in costo Agli altri Ne metti sotto In qualsiasi Ordine Ora arriviamo Ai livelli 6 Che sono veramente Tanti Sono veramente Tanti Però considerando Che io di livelli 6 2 Non dovrei giocarli Perché sono Praticamente Gli onemon Che mi mancano Quindi avrei Praticamente Sono 5 digimon Di livello 6 Anche se Diciamo la verità Lai Andromo Che va l'innone Da 10 12 dp Comunque E 2 Costo 2 Da digivoluzione Si gioca in 1 per Diciamo che Si potrebbe togliere Per mettere un livello 4 Per rendere proprio Bilanciato il mazzo E' anche vero Che comunque Ti permette Di fare ponte Per Kaosmon E Comunque Sono 12 dp Che Se ha sotto Un Digibraid Con Missimo Se hai sotto Un missimo E un db Grade E riesci a fare La option Con il pugno Diventa anche Abbastanza forte Come carta Però devi trovare La combinazione giusta Altra carta Che si gioca in 1 per Il craniumon Che è un blocker Il craniumon Blocker Che è venuto fuori Anche questo Era bt 1.5 13 Costo 13 Quindi tantissimo Ecco Un problema Anche dai livelli 6 in poi Il costo diventa Effettivamente Troppo alto State sentendo La pioggia Perché piove E ho dovuto Chiudere tutte le finestre Quindi Fare il suo video Ci sto mettendo Una vita Dicevo E' un Digimon Livello 6 Ehm A costo 13 Dalla mano 4 digi Evoluzione 12 dp E' un blocker Che Questa è una carta Anche vecchia Che in tutti i turni Tutti i digimon con blocker Non possono essere uccisi Dagli effetti Degli effetti Dell'opponente Quindi Dell'avversario Diciamo che E' buono Dicevo L'altro problema Di questo mazzo E' che Tutti i digimon Che costano 6 Sono una bella cifra Sono una bella cifra E' Ci vorrà Ti servirà Un sacco Un sacco Di memory Altro digimon Che Gioco in 2x E' Duckdramon Questo Questa bomba Perché questa è una bomba Che si gioca A 13 costo Però potresti pagare in meno Adesso vi spiego come Con livello Da digi Evoluzione 3 Quindi si può Si può giocare a 3 Con la digi Evoluzione 11 dp A rush Quindi attacca direttamente Appena messo in campo E on play Cosa faccio Ritorno 5 digimon Db grade Dalla Dal mio Ma Dal Dal Come si chiama Dal cimitero Alla mano No Nel deck In ogni ordine Per ogni digimon Che lo porto di là Pago 2 in meno Questa carta Quindi Se io sono ad esempio A 13 A 3 di memory Lo pago 13 Vado a 10 Quindi toccerebbe l'avversario Ma io recupererei Prendendo 5 digimon Db grade 2 memory Alla volta Arriverei a 0 Quindi toccerebbe ancora me E lui può attaccare Perché lui ha rush Quindi E' Una bomba Ma deve essere utilizzato Secondo determinati modi Perché altrimenti Non arriva Però abbiamo 4 metaletamon E' tornato anche il metaletamon Che io lo giocavo Nel mio primo mazzo Nero di digimon 12 Costo 12 3 da digivoluzione 10 dp Quindi non è neanche tanto forte Però vabbè Però non può essere bloccato E nel turno avversario Prende più 2000 Quindi se è un blocker Se è un blocker sotto Tipo il megadramon Può diventare un blocker Molto forte Quindi Non male Carte che sono passate Dall'ultimo mazzo A questo nuovo Sono i cesgarurumon I due cesgarurumon Che ho tolto dal mazzo di prima Per giocarlo In questo Non li ho mai giocati Da quando ho iniziato A giocare questo mazzo 11 dp Vabbè 11 costo 4 da digivoluzione Vabbè A reboot E cosa fa Praticamente Livella una carta Per ogni digi Dal mio mazzo Per ogni digimo Che mio avversario Ha in campo Se è un livello 5 Lo gioco Se è un livello 5 O meno Lo gioco Senza pagare il costo Non male Non male Carta Che dovrebbe essere L'onnimon Ma che non c'è l'onnimo Quindi l'unica modifica Di questo mazzo Sono i blitzgreymon Che sono Livello 6 Sto robottone Di 12 dp Costo di gioco 12 4 da digi Evoluzione A security check Più 1 Quindi Picchia In più Picchia Fa 2 danni E ha In main Faccio Digiburst Praticamente Posso Togliere 2 digivoluzioni Da sotto A questo Digimon Per Dare A un altro Digimon Più 4000 Fino alla fine Del turno Del tuo avversario Quindi Pompa Questo qui Pompa E' una buona Alternativa Al Madonna che caldo E' una buona Alternativa All All'onnimo E In alcuni casi Questo qua si può Trasformare Questo qua Sono uscito A trasformarlo In un Digimon Da 19000 Con Blocker Rebut Security check Più 1 Quindi Picchiava 3 Invece che Picchiare 2 E Guarda che Non è male Non è male E poi La start Del mazzo Ovvero I 3 Chaosmon Che Sono una bomba A livello 7 15 Da Da mano 6 Da digivoluzione Questo costa Tantissimo DP Però Anche se Gioco a 6 Digivoluzione E' una bomba Più In tutto A piercing Secondo Quando lo Digivolvi Se tu Io attacco Poi digivolvo Questo Digimon Anche se Dovessi Superare Il livello Il Il mio Memory Questo Si ristappa E può attaccare Di effetto Di nuovo Quindi Anche se Io Anche se Ed è un 14000 Di 14000 Penso ci sia Soltanto L'omnimon Che può No Forse c'è anche Qualcos'altro C'è l'omnimon Mi sembra Che ci sia Il Lancet Greymon E il Metagarulum Forse Che possono Fermarlo Però Questo Digimon E' un Digimon Che Comunque Si gioca A tanto Ma ha Questo effetto Che permette Di fare Due Attacchi Quindi Questa è una Bomba Il Chaosmon E' una Bomba E non è Il Val Dorm Arms Che è Ancora Più Bomba Chiudiamo Con le Tre Option Un In Uno Pero La Dark Side Attack Che si gioca A costo 5 Dalla Security Si attiva Direttamente L'effetto Distrugge Un Dissimo Livello 7 Con Costo 7 O Inferiore Quindi Tipo Se viene Caso Fosse In Difficoltà Magari L'avversario Sta Per Chiuderti Perché C'ha un attacco In più di te Tu hai una Security In meno E quindi Avresti Perso E quindi Facendoti Un paio Di calcoli Magari Puoi arrivare A salvarti Il culo Per un Turno In più E poi Sperare Di vincere Quindi Va bene E poi La Option Più Forte Praticamente E' Questo Qua Il Pugno Final Zubagon Punch A costo 2 Da Più 3000 Digimon Se Questo Digimon Raggiungi 16000 DP Prende Blocker Reboot E Security Check Più Uno Se lo fai Ad esempio Su Bizgraymon E' una bestia Picchia 3 Picchia 3 Ok Fino Alla fine Non del tuo turno Ma del turno Dell'avversario Quindi Che resiste Anche in difesa Questa carta ti permette Di resistere Anche in difesa Ma di cosa Stiamo parlando E questo E' un mazzo Molto bello Questo è un mazzo Molto bello Punti di forza Sicuramente Si può giocare Come Rookie Resh Ha davanti Delle bombe Punti di debolezza Secondo me Pochi livelli 4 Tanti livelli 6 Con un costo Effettivamente Molto alto Però E' un mazzo Molto Molto divertente Veramente Rispetto a Il Ragnarok Il Ragnar Lodomon Ancora E' abbastanza divertente Però questo qua E' molto più bello Secondo me E' più A quella componente Rookie Che non c'era Nel mazzo Di Ragnar Lord Dove O facevi la scala Con i Greymon O non arrivavi da nessuna parte Cioè effettivamente Cioè o riuscivi a fare la scala Con il Ragnar finale Ma altrimenti Non arrivavi da nessuna parte Qua invece Veramente Questo è un mazzo Che può dare tante soddisfazioni Ora parlando Del torneo Di ieri Io Sono arrivato terzo Ieri Con questo mazzo La cosa che mi fa incazzare E' questa community Di merda Di Digimon Cioè Ragazzi Cioè Oggi Ieri dovevamo essere Un bel po' A giocare Sapete Quanto eravamo? In 4 In 4 Dovamo essere Molti di più Si pensava addirittura Un game da 12 player Invece in 4 Ragazzi In 4 Ma perché questa cosa? Perché maggior parte Dei Purtroppo Dei giocatori Stanno ammazzando il gioco Perché stanno ammazzando il gioco? Perché ti dicono Quando è che si torna a giocare dal vivo? Va bene Facciamo sabato Va bene Sabato pomeriggio Lasciamo per Digimon Va bene Arriva il sabato pomeriggio E metà giocatori Non ci sono Ti paccano Perché? Perché siamo dei collozionisti Non giochiamo Cioè E non abbiamo il mazzo Ma porco 2 Io Scusatemi un po' Ma se tu ti compri 5 box Da Fabio E poi ti compri Anche le carte da internet Come fai a non avere un mazzo? Non è quello il motivo Il motivo è che tu non c'hai voglia di giocare Ma stai ammazzando il gioco così Perché Questo gioco Se va avanti così L'anno prossimo Non lo giocherà più nessuno Ed è un peccato Perché è un gioco che vale Veramente tanto Ma fin quando c'è una community di merda In cui fanno tutti gli espertoni delle carte Hanno tutto delle carte Di qui di lì Ma poi sono i primi Che quando gli dici Dai vieni a giocare No E allora Cioè Lo stai uccidendo il gioco così Perché tanto le carte Te le compi su internet Ma c'è bisogno Di fare tutta sta storia Tanto te le compi su internet E mi girano i coglioni Che questa gente qui Che Ti dice Non c'ho il mazzo Si comprano le carte da inter Si comprano 5 mazzi in negozio Vengono solo per fare il video Per fare gli espertoni E poi quando però devono giocare Non ci sono mai E non è la prima volta che pack Non è questo che fa incazzare E' il bello che l'hanno voluto loro Il sabato pomeriggio Sono loro che hanno deciso di giocare Il sabato pomeriggio E poi il sabato pomeriggio Non vengono a giocare Per questo io preferisco Allora Il discorso è Io gioco a Magic E gioco a Digimon Vi faccio un esempio Magic Ci gioco volentieri Perché c'è una community Di giocatori Dove si gioca Non dove si colleziona E non si gioca Mentre in Digimon Purtroppo C'è una community Di merda Di persone Che vogliono Che fanno Gli espertoni Vengono solo per fare video Per parlarvi delle carte Ma poi non hanno Non giocano mai E quando ti chiedono E ti dicono Ok giochiamo questo giorno Poi non vengono a giocare E quello che ti fa incazzare Non è la prima volta Una volta uno è venuto Mi ha detto Ha scritto C'è qualcuno Che ha bisogno Di queste carte Che le hai venduto E non si è presentato Quel giorno lì Ieri non è venuto a giocare Questo è per farvi un esempio Ma metà dei giocatori Di Digimon Purtroppo Sono collezionisti Stanno ammazzando Il gioco Stanno ammazzando Il gioco Questo qua Arriviamo a livello Arriviamo a BT06 E poi Secondo me Non escerà più niente Se andiamo avanti Di questo passo Perché non è possibile Fare un torneo Con quattro persone In croce Quando potevano essere tante Perché effettivamente Erano segnate Tante persone E poi sono diventate quattro Ieri potevo giocare A Vanguard Overdress Che erano comunque Che erano sedici giocatori Quanti cazzo Sedici Quattordici giocatori A questo punto Il sabato Gioca Vanguard Se ci sono quattro Giocatori in croce Per Digimon Cioè che gusto c'è Ma così Ammazzo il gioco Pure io E quello è il problema Per questo Io Cioè veramente E' un discorso Che non si può Avere una community Di merda Come questa Cioè E mi dispiace Io sono uscito Dal gruppo De Magica Kibas Di Digimon Perché purtroppo Sono tutti Dei cazzo Di espertoni Che però Quando vanno Quando gli dici Giochiamo Ti dicono no Oppure ti dicono Sì e poi non vengono Cioè E poi uno Girono i coglioni Perché è un gioco Che vale Porca puttana Un gioco che vale Dio canto Cioè Ma lo stanno rovinando Con questa brutta Ideologia di merda E questa è una critica Che faccio Quindi io Voglio soltanto Dire una cosa A tutti quei giocatori Di Digimon Quelle persone Come Digimon Giocate anche Non fate solo I collezionisti Perché state ammazzando Il gioco così State ammazzando il gioco Non si può Non si può Giocare in questo Cioè Non si può fare un torneo Con quattro persone Perché Una metà Devono paccare Perché dicono Che non c'hanno Il mazzo Ma si comprano Il box Da non so dove Il box Da Fabio Poi si prendono Le carte su internet Cioè adesso Con BT06 Deve uscire Quella bellissimo Quel bellissimo Onimon Impossibile da trovare Che costa Un sacco di soldi 1200 euro Vale se non sbaglio Un sacco di soldi Costa Oh Ti giuro Ti giuro Sono sicuro Che questa gente qui Farà di tutto Solo per averla Ma non la giocherà Mai Non la giocherà Mai E non verranno Mai a giocare Cioè Sono sicuro Che lo faranno E questa cosa Mi fa incazzare Ancora di più Giustamente Uno non può costringere Le persone a giocare Però a questo punto Cioè Capisci che Fa incazzare Che tu Prima Proponi un giorno E poi non ci sei Tu stesso Capito E qui Questo è il discorso Cioè Ragazzi Al di là di questa critica Al di là di questa critica Che è veramente Molto forte Perché Io ci tengo A comunque Continuare Questo tipo di gioco Che Che mi In cui sto spendendo Sto investendo Porca putana Ecco Si è incazzato pure Dio dalla sopra Porca troia E Il rischio Di prendermela nel culo Perché se il gioco muore Figa Io tutto l'investimento Che ho fatto Per queste carte qui Figa Me lo metto nessuno Nel culo Perché poi Non le comprerà Probabilmente Con Digi Non le compreranno Le carte Però Porca miseria Cioè A livello di gioco Sta morendo E non è neanche colpa nostra È colpa dei collezionisti Di merda Scusa Vabbè Io Vi saluto Un video un po' lungo Io vi saluto E vi rimando A prossimo video Vedrò se magari un giorno Riuscirò a fare una demo Del Del maccio Adesso Non lo so Vediamo Vediamo Comunque vi saluto E vi rimando A prossimo video E vi rimando Grazie a tutti.